Questo è il sito, trasportosociale.ssrtoscana.it, si accede direttamente cliccando sull'azienda a uso della Toscana Sud-Est. A questo punto si viene renderizzata una pagina di login. In questo caso il login necessita di un'identità digitale. Potranno essere così richiesti online i voucher gratuiti per il trasporto di persone con facilità socio-economiche. La ricetta infatti diventa unicamente telematica come stabilito dalla giunta regionale con una delibera. Il servizio riguarda solamente i cittadini che devono effettuare all'interno del sistema sanitario cicli di prestazioni diagnostico-terapeutiche prescritte dai medici di medicina generale o da specialisti, ma non hanno modo di raggiungere il luogo di cura autonomamente. Persone che hanno difficoltà reali a recarsi presso una struttura sanitaria per fare questi cicli di terapie. Ovviamente ci sono anche delle condizioni legate alla parte economica, quindi si deve avere un ISEE comunque basso. Come poter accedere però a questo servizio telematico? Il servizio è semplice nella sua attivazione. La modalità è individuale, se uno ha la possibilità di accedere a un computer, a un telefono, al sito trasportosociale.ssr.toscana.it si accede con l'identità digitale e si compila l'autocertificazione alla fine della quale viene rilasciato un voucher da utilizzare con le associazioni di volontariato per il trasporto. Viceversa invece nel caso in cui non si abbia questa possibilità ci si può recare a un qualunque sportello cup dell'azienda sanitaria e presentare il modulo, verrà aiutato e l'operatore di sportello compilerà l'autocertificazione, la registrerà, stamperà il voucher e lo fornirà all'interessato.